Autunno di cantieri nel centro storico di Ariano Erpino. Oltre al tanto atteso avvio della procedura per il polo scolastico alberghiero ed agroalimentare, tra qualche settimana partirà il restyling della facciata del Palazzo degli Uffici. È un progetto che sta seguendo il suo iter naturale, grazie al processo avviato dalla vecchia amministrazione, ma che troverà comunque compimento e realizzazione sotto l'amministrazione Franza. Con gli uffici stiamo seguendo tutto l'iter che serve affinché i lavori iniziano. Aspettiamo l'autorizzazione da parte del genio civile per quanto riguarda la parte antisismica, dopodiché si avvierà il cantiere. A breve partirà la ristrutturazione della facciata del Palazzo degli Uffici, della vetrata. Giovedì prossimo avremo un incontro con il direttore dei lavori, l'azienda appaltatrice, l'ufficio tecnico e il sindaco. Nell'arco di qualche settimana i lavori vedranno il loro avvio. L'assessorato al patrimonio e all'edilizia pubblica, guidato da Massimiliano Grasso, ha già valutato la dislocazione del personale degli uffici interessati, quello tecnico e dell'economato. Un trasloco temporaneo avvisa poco più di tre mesi. Altra struttura sotto la lente di ingrandimento di ufficio tecnico ed amministrazione è la nuova scuola d'arte e mestieri. Se il primo piano è completo ed arredato, tocca mettere mano al secondo, dove non solo manca il vano scale tra i piani, ma è anche una struttura grezza, come testimoniano le foto. Ci sono altre opere a cui teniamo particolarmente, come la scuola di arti e mestieri, già avviata e una parte inaugurata qualche mese fa. Con l'unico problema c'è un secondo piano ancora da ultimare. Siamo in questo momento alla ricerca dei fondi. L'unica cosa che possiamo dire è che prima persona, anche come assessore ai fondi europei, mi sto impegnando a reperire delle risorse per far partire dei corsi che sono stati pensati, ma non è stato trovato, non ci si è preoccupati di trovare le risorse per far partire queste attività in quella struttura. Sempre su questo filone c'è la via francigena. L'iter è ripreso, dato che da qualche mese era fermo. La novità è che nei prossimi giorni verrà convocato un tavolo tecnico, verrà effettuato nella sala consigliare del comune di Ariano. Ariano capofila per nuovi progetti.